questa che stai per vedere è la casa vacanze di nonna lella in un borghetto non lontano da pontremoli abbiamo trovato questa piccola occasione sistemazione per dormire abbiamo passato qua solo una notte perché stiamo andando verso l'isola d'elba e passando sulla cisa abbiamo deciso di fermarci in questo posto la ripresa è fatta col cellulare quindi mi dispiace per la qualità del video che non sarà un granché però questo fondamentalmente è un bed and breakfast questa è la casa di una volta molto bella affascinante sono tante stanze questa è una ad esempio quindi sono due letti un letto matrimoniale abbiamo dormito qua la nostra bambina dormita nel suo letto singolo in quest'altra camera qua e la casa è quasi quella di una volta la grande cucina dove si mangiava sempre tutti insieme davvero di legno grande lavello anche il mobiglio ricordo un po i tempi passati tutto molto curato molto bello e pulito c'è tutto l'abbiamo prontata su booking un'occasione rispetto a tanti altri bed and breakfast che costavano un sacco bagno c'è tutto c'è anche la doccia normalissima la vasca da bagno sembra un po che ricordo lo stile un po retro qua c'è un'altra camera un'altra camera da letto e suppongo che qua in questa casa oggi ci siamo dentro solo noi ma suppongo che possa essere affittata più di una persona più di unità familiare molto bella adesso vi faccio vedere anche solo il panorama che si vede dalla finestra perché assolutamente merita e qua è dove siamo noi oggi in partenza per l'elba ma questa è la casa di nonna lella tutto molto bello prenotate prenotate tranquillamente perché è tutto pulito si dorme alla stragrande perché c'è un silenzio esagerato e questa è la casa poi c'è anche un cane che abbiamo trovato questa mattina a cui vogliamo già un sacco bene è vero non sappiamo come si chiami però ripeto questa è la casa vacanze nonna lella a cui ormai